ciao a tutti benvenuti in questo nuovo video oggi ho deciso di portarvi una nuova serie che spero di poter continuare poi per qualsiasi altra informazione vi prego di leggere la descrizione così che io possa far durare questo video il più possibile e siccome per ora posso farlo durare per massimo 15 minuti cerco di non rubare troppo tempo per descrizioni quindi partiamo subito ragazzi c'è da tenere un sacco il fiato per cercare di non disturbare troppo il microfono devo prendere un sacco di respiri profondi ogni tanto mi allontano comunque iniziamo allora non ho molte espansioni ve l'elenco presente ho vita sull'isola quattro stagioni cani e gatti vita in città usciamo insieme al lavoro e un giorno alla spa scusatemi per questo umore ma è il computer che soffia parecchio visto che comunque sta oh mio dio ora scoppia visto che comunque sta lavorando per cercare di far andare il gioco ogni tanto va così sopportatelo oh mio dio ora scoppia mi fa paura quando fa così comunque iniziamo ho passato un po' il volume perché mi dava un po' fastidio allora non so bene in questa puntata faremo dei personaggi non so bene ancora che personaggi fare comunque sappiate che i video finiranno un po' tagliate non saluterò né niente perché comunque questo qua è un video unico che taglierò in tanti piccoli pezzi da 15 minuti ciao di piacere di creare la mia storia inizieremo con un divertente test sulla personalità al termine potrei personalizzare il mio aspetto proviamo con questo testo della personalità va bene facciamo stavo pensando una femmina iniziamo con una domanda semplice qual è la mia età allora facciamo un giovane adulto visto che di solito li faccio sempre adulti facciamo un giovane o potremmo fare una giovane adulta e un'anziana tipo che vive con la nonna fantastico e tu rifiuti sparsi sulla spiaggia cosa faccio io direi la ripulisco immediatamente quando devo avvicinarmi all'acqua magari potessi avere le branche lo snorkeling sempre divertente meglio stare l'asciutto sulla mia barca la facciamo un po' sirena dai non ne ho mai fatta una sirena quindi magari potremmo farla sirena e in programma una festa di addio per una mia conoscenza cosa faccio? le compriamo? le compriamo? no le forniamo una d'ocorto? si penso che gli alieni un giorno li troveremo sono già tra di noi un giorno li troveremo la mia famiglia vuole che io rispetti la tradizione cosa significa per me onorare la tradizione importante invento delle tradizioni tutte mie le tradizioni non fanno per me io direi di fare invento delle tradizioni tutte mie che potrebbe fare con la nonna? mentre una sera guardo le stelle vedo qualcosa nel cielo di che si tratta? wow una stella cadente un UFO non è di certo la luna? potrebbe essere wow una stella cadente? si se dovessero ricordarmi per una cosa quale sarebbe? le opere che ho realizzato i miei contributi alla scienza tutto ciò che ho collezionato io metterei la facciamo scientifica mettiamo i miei contributi alla scienza ho una grande idea per uno scherzo e a spese di qualcun altro è autoironico non farei mai scherzi a chi che sia io metterei è autoironico quando vado in un negozio di alimentari non posso fare meno di comprare prodotti genuini pasti da cucinare a microonde una composizione gloreale prodotti genuini quanto mi diverto a usare il futuro sui miei amici moltissimo un po' per niente per niente perchè ve la facciamo una ragazza per bene ovviamente ovviamente ha creato un maschio sarà abbastanza intuito e il piacere di conoscerti hai piena libertà di scegliere il mio sesso cambiare il mio aspetto selezionare il mio impegnamento e non dimenticare di darmi il nome va bene allora innanzitutto cambiamo subito e la facciamo femmina perfetto la voce oh, giusto mi sono dimenticata ora di alzare ma non alziamo troppo magari ecco appunto domani com'è? no è bella la tua è bella come vuoti ma non ha anche i piedi magari va bene così femminile femminile mentre l'ingravidanza ok dopo scegliamo come chiamarla ah ok questi non li posso cambiare giustamente allora allora praticamente lei ce ne sono due eh questa è la forma sirenica ok perfetto allora volevo farla un pochino più muscolosa ma non posso cambiare niente no va bene non posso cambiare niente neanche qua ok allora allora volevo farla solo un po' più muscolosa ma ci accontentiamo non è un problema vediamo non ho mai fatto una sirena quindi per me questa è una novità so che il mio mouse è molto è molto forte come suono quindi mi dispiace si può triggerare qualcuno rossa rossa ne sta bene sembra un buon demone però vabbè invece qua questo potrebbe essere un po' più carino vediamo se ci sono se restano bene altri colori magari però un bel blu un bel blu non mi piacciono no forse restano bene i capelli beh questa alga sul collo proprio no molto meglio oh oh perché ok allora vediamo un po' qua le forelle labbra un po' più grosse allora cambiamo labbra no 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 ok mi dispiace devo ancora abituarmi al fatto che dovrei tipo allontanarmi un po' del microfono quando respiro quindi scusate se ogni tanto sentite un po' di respiro appunto ok mi sembra un po' rifatto neanche più di tanto però le guance le ho modificate male non mi piacciono particolarmente ok ok però dai possiamo anche lasciarle così la coda però non mi piace non ci ha cambiato idea forse perché non è abbastanza naturale quindi non mi piace molto lo so solo che non saprei beh beh questa ha anche del blu non sta poi così male vediamo vediamo se possiamo tipo cambiare questo metterlo un po' più chiaro no terribile insomma no direi che questo è quello che sta meglio quindi lasciamo questo i bracciardini le lascio perché sono molto carini le mettiamo un tatuaggio così se ce li fanno mettere ok direi sul braccio lo mettiamo colorato così lo mettiamo colorato così non è poi tanto male forse lo preferisco nero visto che ci sono già tanti colori vediamo oh questo è molto carino questo è troppo da dura anche questo direi non entrambi sulle mani uno qua dietro no le stelline magari le vedrai di più si ok dai ci può stare adesso andiamo a modificare lei normale avrà comunque sempre gli soliti due tatuaggi ok qua possiamo farla un po' più mascolina aspettate così ecco ok 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 ci piace e vediamo i capelli pensavo di lasciarli questi perché non sono niente male secondo me stanno bene al suo viso eh se magari smettessi di hollare grazie comunque guardate che carino non l'ho mai avuto questo allora oh beh non è mica male come vestito del giorno magari cambierei forse solo il colore perchè non glielo vedi molto vediamo 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 sul rosso sul rosso sul rosso sul rosso non lo so 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 guardate che adesso non mi sta convincendo molto abbiamo un po' no vediamo allora un vestitino di questo genere no questo mi sembra molto carino questo sul nero sì anche i sandali i sandali mi piacciono così così si vede un po' poco il coso però non fa niente non fa niente allora io ho avuto un dubbio però forse non possiamo fare la nonna cioè devi mettere la madre o qualcosa vediamo gioco gioco con la genetica proviamo a giocare con la genetica no io volevo creare non vengare l'uomo non